Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us 2 vi spiegherò come aprire questa cassaforte che trovate nella stanza 302 del condominio vicino il ponte crullato. Praticamente è un appartamento che visitate per forza nella storia, quindi aprite questa porta e vi avvicinate alla cassaforte. La combinazione è l'insieme di due appartamenti, il 302 e il 304, quindi il numero finale sarà 30, 23, 04. Ripeto, 302 e 304, che sono due appartamenti, quindi 30, 23, 04. E la cassaforte è aperta.